Forse era parente di un collaboratore di giustizia legato al clan Vollaro di Portici, la donna uccisa questa mattina a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Secondo la prima ricostruzione, Teresa Buonocore, 41 anni, incensurata, sarebbe stata raggiunta da quattro colpi di pistola calibro 9, sparate a distanza ravvicinata, mentre era a bordo della sua auto, sotto il ponte della tangenziale, in via Ponte dei Francesi, prima dell'accesso all'area portuale. Potrebbe essere stata affiancata da due uomini in moto che hanno aperto il fuoco. L'omicidio è stato denunciato con una telefonata anonima al 113 e al momento non ci sarebbero testimoni oculari, ma altre telefonate di persone che non hanno voluto qualificarsi stanno aggiungendo particolari importanti per la ricostruzione di quanto accaduto. Elementi utili per individuare i colpevoli potrebbero arrivare anche dai filmati delle telecamere a circuito chiuso disseminate in tutta l'area.